Il sintomo principale della malattia di Morton è il dolore, tra il terzo ed il quarto dito del piede. Il dolore è dovuto alla grande sensibilità del piede, che è dotato di una fitta rete di nervi. Nel video si vede che la paziente ha il normale movimento dell'arto, mentre prima dell'intervento il piede era bloccato a causa della retrazione muscolare. Si fa notare che dopo l'intervento la contrattura non è presente, la caviglia è più sciolta e i tendini del piede non sono più in tensione. Ma secondo lei ha fatto bene a fare questo intervento? Benissimo. Lo consiglierebbe a qualcuno che ha i suoi stessi problemi? Sì, assolutamente, perché era diventato veramente invalidante. La riabilitazione ha previsto l'applicazione di mezzi fisici, massoterapia, stretching dell'arto operato e ginnastica posturale.